Ancora Messi, chiuso, un po' lento Munteano, recuperato Sanchez, Messi in aria, ancora Messi col mancino, Messi! Il vantaggio del Barcellona, al quarto minuto, Leo Messi sblocca il risultato, al primo tiro passa il Barcellona. Buono in lancio davanti al portiere, il pallonetto, il gol del 2-0, il Barcellona in pieno recupero al 92esimo, trova con Affellai. Il gode al raddoppio, si smarca molto bene sul filo del fuorigioco e batte in partiera della Dinamo di Bucharest, Balgradian, gol di Affellai.